Calus è il software per la gestione di magazzino più semplice del mercato in quanto in un'unica finestra abbiamo tutti i nostri articoli di magazzino con i dati aggiornati di giacenza, riordino e quantità ordinata inoltre per ogni articolo in basso abbiamo in ordine di data decrescente la situazione di carico e scarico per ogni prodotto possiamo inserire un codice a barre che può essere EAN8, EAN13 o COD39 ed una foto abbiamo un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita e la gestione di promozioni e offerte il programma può gestire i lettori di codice a barre sia in emulazione tastiera che supporta seriale oppure in emulazione supporta seriale nel caso siano lettori di codice a barre USB fare una nuova fattura di acquisto oppure di vendita è molto semplice basta inserire una riga all'interno di questa finestra o tramite il comodo menu oppure in emulazione lettore inserendo ogni riga con il lettore di codice a barre che può essere sia su seriale sia su emulazione tastiera inoltre possono essere stampate o il DDT o la fattura oppure la ricevuta inoltre ogni fattura può essere gestita con valute differenti dalla valuta base del programma quindi ad esempio posso avere una valuta base in euro e stampare una fattura in dollari abbiamo anche oltre alle fatture dirette anche le fatture indirette o fatture verso liberi professionisti con IVA, IMSS e ritenuta d'acconto abbiamo la possibilità di effettuare ordini a fornitori o a clienti e di fare l'evasione dell'ordine sia totale che parziale nel caso di ordine a fornitore avremo una fattura di acquisto mentre nel caso di ordine a cliente avremo una fattura di vendita nell'anagrafica abbiamo clienti e fornitori mentre per terminare l'ultima tabella abbiamo una comoda agenda per scadenze ed appuntamenti il programma utilizza come archivi un file di access in modalità predefinita ma può utilizzare anche una connessione a un server SQL di Microsoft come ho già detto il programma consente l'utilizzo di lettori di codice a barre sia in emulazione tastiera sia su porta seriale che in emulazione di porta seriale spiegarvi tutto il funzionamento del programma in questi pochi minuti è molto arduo quindi se siete interessati la miglior cosa è scaricare il file di installazione dal sito e provare il programma direttamente per quanto tempo si vuole poi se ancora interessati allo sblocco del programma è possibile attivarlo con un codice seriale che occorre acquistare e costa questo codice seriale 28 euro per l'attivazione del programma per un anno oppure 84 per l'attivazione del programma per sempre comunque trovate maggiori informazioni e chiarimenti sul nostro sito www.rcpsoft.it spero che il mio software vi piaccia e vi auguro buona giornata